I soggetti che sono guariti da Covid vi è un interessamento diretto da parte del virus del sistema nervoso. È il risultato di uno studio al momento unico al mondo effettuato all'ospedale di Padova sui malati di Covid per vedere gli effetti sul sistema nervoso. 151 pazienti, età tra i 20 e i 70 anni, tutti malati nella prima ondata e quindi non vaccinati. Abbiamo aperto, questo è lo studio più importante che esiste al mondo in questo momento, la strada alla comprensione delle complicanze croniche, degli effetti cronici del Covid sul sistema nervoso. I ricercatori hanno studiato l'occhio per capire gli effetti del Covid sul sistema nervoso. La cornea, ovvero la parte trasparente dell'occhio, è la parte più ricca di nervi del corpo umano. Con un particolare strumento sono state analizzate le cornee dei guariti dal Covid, indipendentemente dalla gravità e dalla cura, e gli scienziati hanno stabilito che oltre alla malattia respiratoria il virus è capace di debilitare il sistema nervoso. Da qui la sensazione di stanchezza e affaticamento che avvertono spesso i guariti. Il 70% dei contagiati ha avuto effetti di questo tipo. Sono nervi, vorrei dire, privi di energia, perché le loro riserve energetiche, che noi possiamo vedere sono dei piccoli puntini iper riflettenti, si riducono drasticamente. Vuol dire che l'infezione ha attaccato anche questa componente del nostro e dell'organismo di queste persone. Poi, per quanto riguarda i dati del Covid, sono in calo i contagi e il numero degli attualmente positivi nella provincia di Padova, che sono oltre 2.000 in meno rispetto alla settimana scorsa. Calano gli accessi al pronto soccorso per Covid, ma rimangono stabili i ricoveri. In terapia intensiva c'è solo una persona che sta guarendo. I casi positivi erano inferiori, avevamo un peso sulle terapie intensive ancora molto importante. Attualmente abbiamo più casi positivi, però il peso sulle terapie intensive è praticamente inesistente.